Adesso c'è Puttì in lunetta nella situazione di più 4 Pescara, 3 secondi da giocare. Manca materialmente il tempo direi a Sansevero per poter rimediare a questa partita e arriva anche il libero di Puttì che fa esplodere di gioia tutti i tifosi di Pescara. 2 su 2, è finita qua, è finita qua la terza squadra ad andare in a 2, è proprio l'amatori Pescara. Tutta la gioia della formazione abruzzese che riceve l'abbraccio direi non solo ideale dei propri tifosi. Tifosi che qui davanti alla nostra postazione stanno abbracciando Leonzio. Leonzio autentico, mattatore, 30 punti per lui, una prestazione immensa. Il taglio della retina, il taglio della retina è il momento simbolico della festa. Ovviamente il taglio è proprio da parte di Leonzio che è stato un giocatore super, ha chiuso a 30 punti, una prestazione davvero trascinatore. Bravo coach Raiola che ha messo in campo un'ottima squadra e delle ottime personalità prima di tutto. La festa che prosegue per amatori Pescara con il cappello da pistolero, da cowboy per Ennio Leonzio che è sicuramente l'MVP di questa partita. Ed eccola qua, il simbolo, la promozione. Ricordiamo le tre squadre ne ho promosse in a 2, nuovamente sono Milano, Orginuovi e Pescara.